Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Estoria, con il patrocinio del Ministero della Cultura, di Turismo FWG, dell'Associazione Italiana Editori, dell'Università degli Studi di Trieste e dell'Università degli Studi di Udine, grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche, di sponsor privati e degli amici di Estoria, cui vi invitiamo ad aderire. Sta per iniziare l'incontro intitolato L'arte malvagia di fare i pazzi, articolato in due eventi, l'amaro caso di Giuditta Guastamacchia e la frenologia, una pseudoscienza al servizio della nazione. Intervengono Francesca Canale-Cama, Antimo Cesaro, Coordina Valerio Marchi. L'appuntamento è trasmesso anche in streaming sul sito www.estoria.it, scrivendo un messaggio via WhatsApp o Telegram al numero 331-1682969. È possibile inviare alla social room di Estoria le domande per i relatori. Buona storia a tutti. Buonasera, benvenuti a tutti, grazie per la vostra presenza, grazie per l'ospitalità di Estoria anche in questa edizione 2021. Abbiamo con noi, l'abbiamo detto e ripetiamo, Francesca Canale-Cama e Antimo Cesaro, che adesso brevemente presento per un tema che sicuramente susciterà il vostro interesse e ci farà conoscere cose che non sono proprio così di comune dominio normalmente, molto interessanti. Francesca Canale-Cama è professore associato presso l'Università della Campania Luigi Van Vitelli, dove insegna Storia Contemporanea, Storia dell'Europa e del Mediterraneo e Global History. È specialista della Prima Guerra Mondiale, nella sua attività di ricerca ha privilegiato i temi della diffusione transnazionale delle idee e delle prassi politiche del primo novecento. Si è occupata a lungo della storia dell'Europa e del Mediterraneo con numerosi saggi, con ricerche e monografie. Dal 2019 fa parte del gruppo di ricerca FREIT, di questo parleremo, introdurremo brevemente, Political, Legal and Sociological Profiles of Phrenological Research in Italy. Qualche pubblicazione, Quella pace che non si fece, Francesco Saverio Nitti e la pace fra Europa e Mediterraneo del 2020, poi assieme a Feniello e Mascelli Migliorini, Storia del mondo, 2019, poi una guerra mediterranea, Grande guerra, imperi e nazioni nel Mediterraneo, 2018, e con Casanova e degli quadri, Storia del Mediterraneo moderno e contemporaneo. Qua siamo nel 2017, insomma già una bella produzione che ci dice tante cose. Antimo Cesaro, ordinario di filosofia politica nell'Università della Campania Luigi Van Vitelli, insegna scienza e filosofia politica e teoria del linguaggio politico. Appassionato d'arte, bibliofilo, coniugando ricerca scientifica e impegno sociale, è stato membro del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali, deputato, sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura. Dal 2019 coordina quel progetto Freight di cui abbiamo detto poco fa. Qualche pubblicazione più recente, L'utile e idiota, la cultura nel tempo dell'olocrazia, 2020, due storie necografiche e altre macabre avventure osteologiche, qua entriamo già nei contenuti di questa sera. Poi il sovrano demiurgo Federico II, Ideologie simbolica del potere. E poi, anche di questo parleremo stasera, Caput Mortum, ci si verrà spiegato cosa vuol dire, Anatomia della mente, disciplinamento sociale 2018. Poi assieme a Elvira Falivene, una collaborazione a cura di Cose da pazzi nelle case dei matti 2020. Insomma, già anche qui abbiamo citato un buon numero di pubblicazioni. E allora entriamo subito nel nostro discorso, già che abbiamo accennato questo progetto, le cose di cui parliamo stasera rientrano in un insieme di studi che fanno parte di questo progetto. Che cos'è? È un progetto che nasce intorno a un'idea di valorizzazione di una collezione museale. L'Università Van Vitelli della Campania ha una ricchissima collezione nel Museo di Anatomia Patologica. Ma accanto a un recentissimo nuovo allestimento delle collezioni, ci siamo resi conto che mancava una narrazione che potesse far avvicinare un pubblico colto a questa importante collezione museale, tra le più grandi d'Europa. E molti dei reperti sono dei crani frenologicamente annotati. Già l'avverbio frenologicamente richiama una pseudoscienza che ha suscitato in molti di noi un interesse scientifico e ci ha spinto a imbastire un progetto di ricerca multidisciplinare che coinvolge diversi dipartimenti della nostra università per cercare di restituire una dignità scientifica a un percorso di ricerca che nel XIX secolo è stato particolarmente importante e suggestivo. Una riflessione sull'alienazione e sulla follia attraverso un percorso che poi si è rivelato pseudoscientifico ma che comunque ha dato frutti importanti alla ricerca delle neuroscienze. E accanto a questo abbiamo anche immaginato di offrire una divulgazione scientifica a supporto della ricchezza delle collezioni in un processo di valorizzazione di questo importante istituto museale della nostra università. Abbiamo coinvolto altri centri di ricerca italiani e stranieri, siamo al secondo anno di attività con una serie di pubblicazioni e quest'anno abbiamo anche avuto l'opportunità di intersecare il tema specifico di storia dedicato alla follia. Bene, questo ci fa veramente piacere. Allora abbiamo parlato dell'affermarsi di questa scienza, pseudoscienza, adesso chiariremo nell'Ottocento. Perché si afferma questa disciplina, questa scienza? Non so come possiamo adesso... Innanzitutto la frenologia diventa ben presso una pseudoscienza e questo per il presupposto, diciamo, che ha, vale a dire, l'idea di poter rintracciare l'interiorità umana, potremmo chiamarla anima, potremmo chiamare caratteristica dell'individuo, attraverso dei segni fisici. Tanto per fare un esempio banale, ciascuno di noi qualche volta nel suo piccolo della quotidianità ha pensato a se se l'ombroso avesse ragione, se l'ombroso avesse ragione nella rintracciare nella fisiognomica segni di una evidente amoralità o inclinazione alla delinquenza, un carattere anche razziale di un individuo. Ecco, questo è il principio della frenologia. L'ombroso, lo vedremo, non è propriamente della generazione classica dei frenologi, ma è certamente l'esempio più conosciuto, quello che è la testa di ponte, diciamo, che va a portare la frenologia in Italia nella psicanalisi. In generale la frenologia ha avuto successo nonostante un principio così evidentemente fallace, cioè voler rintracciare il principio della normalità o appunto della follia nel cranio, soprattutto in un cranio morto, cioè sostanzialmente in un dato proprio fisiologico, un rigonfiamento oppure un avvallamento del cranio, eccetera, non come oggi naturalmente la psicologia face di un cervello in movimento, di un cervello pensante, di un cervello attivo è evidentemente un principio fallace che si poneva come obiettivo combattere quello che in realtà metteva in discussione, vale a dire l'approccio metafisico al male. L'arte malvagia di fare pazzi è un libro infatti di Giacchino Miraglia, frenologo per eccellenza, di cui anche parleremo tra poco, in cui si teorizza l'idea che la frenologia superi tutta la mistica e la leggenda, anche l'approccio ecclesiastico, al tema della moralità e della moralità nell'individuo. Anzi, dice Miraglia, la frenologia ci aiuta a discernere, a capire e a scoprire quanto l'educazione sbagliata, fallace, abbia creato dei finti pazzi, laddove la frenologia può individuare i veri pazzi. I finti pazzi sono quelli educati alle scuole religiose e quasi tutti i frenologi sono anti-ecclesiastici. incontrarono quindi un'opposizione. Certo, soprattutto all'inizio dell'Ottocento, misura diversa alla metà dell'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento sono anche perseguitati, pensiamo a Luigi Ferrarese che è appunto uno dei medici della Real Casa dei Matti di Aversa che viene processato per le idee frenologiche e positiviste in qualche modo da un tribunale ecclesiastico. La storia va avanti e nel momento in cui la frenologia si afferma in Europa siamo nel tempo della costruzione delle nazioni e questo forse è il motivo principale per cui si dà tanto spazio ad una pseudoscienza. Perché nella costruzione delle nazioni ottocentesca, noi abbiamo il caso dell'Italia che è una costruzione tardiva e che quindi incontra questo fiorire della frenologia in maniera massiva, il problema è come discernere la normalità dalla normalità. che limiti mettere? In che misura una persona o un cittadino è considerato abile e in che misura disabile? Mettere i confini, mettere i confini sociali, costruire l'ordinamento sociale da molti punti di vista è il tratto comune dei grandi processi di unificazione nazionale che vanno grossomodo dalla prima metà dell'Ottocento fino alla costruzione delle nazioni ai tardi anni settanta dell'Ottocento. In questo frangente la frenologia dà una sponda scientifica all'idea che si debba costruire un ordinamento sociale. Questa sponda scientifica incontra molti dei presupposti anche politici e degli obiettivi politici delle nazioni europee. Ricordiamo che questo è il momento della egemonia europea nel mondo, quindi la nazione deve essere imperialista e la frenologia ci dice che un cranio di un uomo bianco europeo è differente, per forza di cose, se lo sappiamo oggi da un cranio di uno schiavo nero che viene disseppellito in America e che viene dall'Africa eccetera eccetera, legittimando in qualche modo anche queste dimensioni. Quella imperiale certamente, imperialistica certamente, ma anche quella razziale. Quindi diventa non solo un fatto di diversità ma anche di superiorità e inferiorità. Certamente e questo è per forza di cose il gancio che la frenologia offre a una cultura comunque positivistica che abbraccia il concetto, anche questo profondamente europeo, della scienza come progresso. Siccome in quel momento anche la storia, anche la politica per l'Europa è progresso e andare avanti, le due cose si fondono molto intimamente, ci sono delle bellissime pagine che anche Mirai ad esempio, lo vedremo dopo, scrive a proposito, è quasi come se la frenologia potesse spiegare l'ordine umano. Dava le risposte che interessavano quel periodo. Molto banalmente oggi, diciamo, dava le risposte che la politica cercava. Non voglio assolutamente depistare, andare fuori dal discorso, però quando diciamo dobbiamo fidarci della scienza, siamo tutti d'accordo su questo, però a volte dobbiamo anche forse fare attenzione che la scienza non sia al servizio di qualcosa. In effetti è questo che ovviamente non entrava nelle politiche dell'attualità, però si parla in generale di quanto effettivamente scienza e politica possano essere collegate e la frenologia è uno di questi momenti. D'altronde a mio avviso è evidente un lascito che la frenologia ha permanente nella cultura europea, nel semplice fatto che, a parte che le frenologiche hanno un seguito, l'ombroso per esempio è di una generazione successiva rispetto a quella dei frenologi classici, ma hanno anche travalicato in una certa misura il discorso scientifico per arrivare al discorso del senso comune. Questo senso comune noi ce lo ritroviamo. Nella cultura europea più riprese, senza arrivare all'oggi, possiamo pensare al momento dei fascismi, dei totalitarismi che molto evidentemente riprendono in una chiave marcatamente ideologica e politica, ed esasperata, principi che però erano stati seminati e anche delegittimati, perché la delegittimazione della frenologia arriva più o meno all'inizio del Novecento, se non fosse che poi, in maniera strisciante, ha già passato il testimone alla generazione di l'ombroso che la riversa nella psicanalisi. Quindi, mentre la frenologia classica, come vedremo, viene delegittimata già prima della Prima Guerra Mondiale, la generazione lombrosiana la porta nel Novecento. La riprende, certo. Io voglio farti una domanda, ma adesso mi è venuta in mente un'altra. Parlavamo delle opposizioni da parte della Chiesa, o forse delle Chiese, adesso non so se in generale, ma questo era anche perché avere a che fare con i crani, con i cadaveri, con i corpi, era il tempo forse non proprio normale come oggi, diciamo. Nell'Ottocento, per la maggia parte dell'Ottocento, la materia prima, ossia il disporre di corpi, di cadaveri e in particolare di teschi, che è la parte, diciamo, che supera la vita del cranio, non era impresa semplice. Infatti, tu prima hai citato questo mio saggio, storie necrografiche e altre macabre avventure osteologiche. Perché quello che un po' oggi ci fa sorridere anche di un sorriso amaro e un po' macabro, in realtà per lunga pezza è stato un problema effettivo, vissuto. Per esempio, in Inghilterra ancora oggi sono visibili nei cimiteri delle tombe con tanto di grate come antifurto per la bara. Il che significa che nella prima metà dell'Ottocento la scienza frenologica, che fu anche una moda scientifica alquanto diffusa e affascinante, ebbe moltissimi seguaci. Nacque, per esempio, ad Edimburgo la società frenologica fondata da Combe, che fu l'ultimo grande erede di una tradizione culturale a cui è fatto riferimento la collega Canale-Cama, iniziata da Gall tra l'Austria e la Francia tra 7-800, che è il padre della organologia. L'organologia è il desiderio di indagare l'organo del cervello per ricavarne poi una serie di riflessioni scientifiche sul comportamento umano. Certo, è una sorta di anatomia della mente nella supponenza intellettuale dell'organologo per poi arrivare a una sorta di disciplinamento sociale successivo. È anche una forma di nuovo sapere che si afferma che in embrione però rappresenta anche la speranza di poter prospettare un nuovo potere, un nuovo potere organizzativo fondato sulla capacità dell'organologo prima, Gall, del frenologo poi Spurzaim, allievo di Gall, di poter antevedere le potenzialità della persona e quindi poterne in qualche misura indirizzare gli esiti della vita. Dal singolo individuo il disciplinamento sociale può essere portato anche a un'intera comunità. Tu mi dicevi la Chiesa. Ovviamente nel momento in cui il medico organologo o frenologo che dir si voglia ha la pretesa di poter, indagando il cervello, avere contezza delle potenzialità dell'individuo, delle inclinazioni comportamentali, etiche e morali, è chiaro che la Chiesa reagisce perché si vede sottratto un potere di investigazione che fino a quel momento era di carattere metafisico, cioè indagare l'anima dell'individuo per poterne prospettare le potenzialità nella vita significa anche sottrarre alla Chiesa una capacità di giudizio che fino a quel momento aveva avuto come privilegio diagnostico, diciamo così. Tanto è vero che Gall dovette abbandonare in fretta e furia l'Austria, siamo alla fine del Settecento, riparare a Parigi, dove fu accolto con grande entusiasmo ma anche da una sulfurea reputazione che andava in qualche modo anche ad accreditare ulteriormente in certi ambienti questa nuova scienza che era avvolta, come il periodo certamente suggeriva da un alone di mistero che in qualche misura rendeva il frenologo un medico eccezionale rispetto agli altri perché manipolava il cervello o addirittura aveva la pretesa attraverso l'orografia del cranio di poter individuare le facoltà e le propensioni dell'individuo. Oggi tutto questo ci fa sorridere ma il lascito della frenologia è particolarmente interessante sullo studio della follia e della pazzia tra 8 e 900. Uno per tutti, ricordo delle importanti conquiste dell'organologo e del frenologo poi, è considerare il cervello non un organo unitario ma un insieme di componenti, ognuna preposta a una funzione dell'organismo. L'indagine con il bisturi alla mano sul tavolo settorio di questo organo molle e fino a quel momento pressoché inesplorato rappresentò una evoluzione notevole nella storia. Prima era un organo sconosciuto sostanzialmente. E quasi, come dire, difficilmente manipolabile perché data la consistenza dell'organo molle, la capacità del chirurgo di intervenire col bisturi seguendo diciamo, la conformazione dell'organo era considerata pressoché impossibile come difficoltà da superare. Gall è un ottimo indagatore del cervello, Spurzheim avrà addirittura la pretesa di osservare la conformazione della scatola cranica e ricavarne un giudizio di valore sul cervello sottostante. La scatola cranica in qualche modo riflette ciò che è il cervello. Ovviamente ci saranno poi critiche feroci non solo della Chiesa ma anche di tanti filosofi. Hegel dirà che non si può ridurre lo spirito a un osso e farà anche una considerazione tutto sommato pertinente che per una mente così, come dire, profonda oggi ci fa un po' sorridere ma non possiamo non dargli ragione. Dice ma forse essendo la scatola cranica di osso e il cervello un corpo molle è difficile che un corpo molle possa conformare una scatola cranica. Ma questo si inserisce in questo dibattito a tratti divertenti, a tratti scientificamente molto coinvolgenti, indubbiamente misteriosi e affascinanti che ha rappresentato una tappa significativa nell'evoluzione delle neuroscienze. Devi anche considerare che la divisione degli istinti o delle caratteristiche che fanno i frenologi del cranio a prioristica, cioè che l'istinto omicidia sia qui e invece chi lo dice? E loro teorizzano inizialmente 27 facoltà, poi le correggono a 32. Ma questo sulla base ovviamente di una pura discrezionalità. questo è interessante quello che dice Francesca Canale-Cama, cioè la frenologia partiva dal presupposto di poter individuare sulla conformazione cranica le potenzialità dell'individuo riconducendole a 27 facoltà fondamentali. Ora perché dovessero essere 27 non si comprende, se non attraverso una logica a prioristica. Quindi una scienza che si propone di essere sperimentale, di indagare il cervello sul tavolo settorio e manipolare il cranio per ricavarne delle verità, in fondo non fa che applicare una visione a prioristica alla scatola cranica, trovando poi conferma di una costruzione in fondo del tutto tautologica. Al netto di tutte queste considerazioni però noi dobbiamo riconoscere che per molti docenti, per tutta la prima metà dell'Ottocento, la frenologia è stata una scienza che è accreditata nei maggiori simposi scientifici, nelle migliori università dove fiorirono cattedre di frenologia e all'interno dei salotti buoni e delle accademie dove le analisi cranioscopiche e frenologiche suscitavano molto molto interesse. Al punto che diventavano non dico delle star mediatiche ma dei personaggi importanti questi medici. Certo, questo accade ad esempio al nostro eroe che vedremo nella seconda parte, dico eroe in modo scherzoso, che vedremo nella seconda parte di questo incontro protagonista del dissezionamento del cranio di Giuditta Guastamacchia e si tratta di Biagio Giacchino Miraglia. Biagio Giacchino Miraglia diventa una star soprattutto in seguito all'Unità d'Italia della frenologia italiana ed è un personaggio, ora se io dico che la frenologia ha a che fare con il risorgimento mi metto in una posizione un po' scomoda per una storica, però ci voglio provare. Ecco esatto, sì no, ma in effetti è questo, mi metto in una posizione un po' scomoda perché effettivamente la generazione di medici che in Italia accoglie la frenologia è una generazione di medici che sono impegnati a costituire una comunità scientifica italiana attraverso dei congressi scientifici che poi sono un'usanza nell'Ottocento. In questi congressi scientifici la frenologia sgomita e riesce ad imporsi soprattutto ad opera, e qui c'entra Garibaldi, di Timoteo Riboli che diventa poi medico personale di Garibaldi e che ha la pretesa di dire, si legge negli atti del congresso scientifico a cui presenta per la prima volta la frenologia che Riboli spera sommi vantaggi all'umanità e inculca il culto della frenologia onde prenda sempre maggiore incremento nelle università e nella società. È chiaro che aprendo questa pista Riboli deve trovare una comunità scientifica e qui abbiamo un primo problema che si interseca con il risorgimento. Questa comunità scientifica è prevalentemente del nord. Abbiamo Torino, abbiamo Milano, sono poli medici e scientifici già estremamente accreditati. Il discorso diverso si deve fare per il sud. Il sud intanto appunto sappiamo che ha un processo di unificazione un po' più combattuto e laborioso e che appunto all'indomani dell'unità si ritrova a dover colmare una sorta di lacuna rispetto all'Italia che si era già unificata almeno nelle comunità scientifiche e nelle comunità sociali. Questo gap in qualche modo per la frenologia lo riempie Viaggio Giacchino Miraglia. Chi è Miraglia? è un medico del real manicomio di Aversa militante patriota che viene incarcerato nella repressione post 48 a Napoli e che prende gli anni del carcere per scrivere il grande trattato di frenologia. Frenologia applicata alle arti, alle scienze, alla psicologia, alla società, ai costumi, persino quasi allo sport, insomma applicata all'universo mondo, scrive nei dieci anni che passa in carcere. Quando arriva l'unità d'Italia questo enorme trattato di frenologia prende uno spazio incredibile intanto perché come molte opere viene letto da personaggi celebri. Uno di questi è Pasquale Stanislao Mancini che è il guardasigilli che poi più di tutto si occuperà di veicolare il lungo dibattito che porterà alla codificazione del diritto penale unitario con il codice Zanardelli nel 1889. Questo sembra roba da poco, non è roba da poco perché Mancini chiede a Miraglia di avere delucidazioni su come trattare la follia nel codice penale. Cioè chiede delucidazioni in merito intanto al discrimine, come distinguere un savio dal folle, come chiedono spesso i magistrati ai frenologi, se c'è questa possibilità anche scientifica e poi le diversità, le diversità di follia, i gradi e le diversità della follia. In buona misura il codice Zanardelli nel 1889 recepisce gli insegnamenti frenologici soprattutto nella parte che possiamo dire buona, vale a dire quella che intanto ci discrimina i gradi di follia, anche la follia indotta, la follia recitata eccetera e soprattutto in tutta quella parte del codice che serve a dirimere la coercizione nella cura dei malati. Sì, se posso agganciarmi Francesca, questo è importante, un altro lascito della frenologia, grande conquista di civiltà nelle aule dei tribunali. Tu prima facevi giustamente riferimento al colloquio intercorso tra Pasquale Stanislao Mancini e Miraglia. Quando noi oggi riteniamo l'incapacità di intendere e volere che nel tempo in cui il fatto è commesso può essere una scriminante per la colpabilità del presunto reo, fino a quando i frenologi non si pronunciano in tribunale, questa conquista di civiltà non esisteva, veniva punito il fatto. Mentre l'alienista che inizia a recitare un ruolo significativo nelle dinamiche processuali richiama l'attenzione dei giudici resti e recalcitranti ad avere come dire un sapere alieno che potesse in qualche modo limitare la discrezionalità delle loro scelte, ma devono necessariamente misurarsi con la perizia del medico frenologo al tempo che sposta l'attenzione dal fatto commesso all'autore del fatto e spinge il giudice a riflettere se nel momento in cui il fatto è stato commesso da quel presunto reo avesse contezza delle proprie azioni, in maniera tale da poter affidare o alla cura medica e manicomiale o al carcere o alla pena di morte, come in molti casi, l'autore presunto del delitto commesso. Questo quindi è un fatto fondamentale. È una grande conquista di civiltà. Si passa dal punire il fatto a capire chi l'ha commesso e in quali circostanze attenuanti, scriminanti, che oggi rappresentano un lessico giuridico corrente. Da una pseudoscienza nasce però qualcosa di estremamente positivo. È quello che dicevo, i lasciti di questa scienza che a noi sembra oggi obsoleta e ci spinge quasi a sorridere, beh, come si dice, non si fanno salti nel progresso, in questo caso nel progresso giuridico e ogni lascito è significativo. La definizione di follia ragionante è una definizione di miraglia, ma che ci spinge a riflettere su come una persona considerata, tra virgolette, normale, possa, come dire, perdere in una circostanza il lume della ragione ed essere folle in un momento della vita e aver commesso magari un delitto efferato, magari anche senza rendersene conto. Di questo poi troveremo importanti riflessi, per esempio nella letteratura dell'epoca, nell'arte. Quindi qua parliamo di un'influenza in altri campi a questo punto della frenologia in vari campi. Sì, oggi noi stentiamo, quando reggiamo un romanzo dell'Ottocento, a riconoscere le tracce disseminate qua e là del lessico frenologico. Basterebbe rileggere attraverso la lente lessicale del frenologo, non so, un classico della nostra letteratura, il Pinocchio di Collodi e capire che i personaggi descritti risentono dell'influenza dell'ideal tipo frenologico, il buono, il cattivo, il commiserevole, il malvagio e così via. Balzac, Dubin furono molto affascinati dalla scienza frenologica. Negli Stati Uniti valga uno per tutti Edgar Allan Poe. Niente meno che. Dopo aver ascoltato le nostre riflessioni sulla frenologia. Se andate a rileggere i racconti di Edgar Allan Poe, vedete che la conformazione del cranio, il richiamo a una fisiognomica del volto, la dinamica degli occhi, richiama assai da vicino i trattati che circolarono notevolmente negli Stati Uniti di scienza frenologica. Io recentemente mi sono soffermato su un racconto tra i meno noti, forse di Edgar Allan Poe, ma che rappresenta un vero e proprio manifesto programmatico di carattere scientifico letterario e Edgar Allan Poe riflette sul demone della perversità e riconosce, anticipando il contenuto del suo racconto, dove come al solito c'è un efferato delitto che viene candidamente confessato da chi l'ha commesso, che la malvagità è qualcosa che prescinde da ogni altra facoltà umana, dice Edgar Allan Poe, nonostante quanto vadano affermando gli spurzeimiti. Usa proprio questo termine, con chiaro riferimento a Spurzheim, allievo di Gall. E quindi Edgar Allan Poe, che in un primo momento si era lasciato affascinare dalla tournée statunitense di Spurzheim, a un certo momento si rende conto di aver commesso un errore di carattere metodologico, lasciandosi prendere da una scienza che, pur come ho detto prima, dichiarandosi oggettiva e a posteriori, in realtà era una scienza di carattere metafisico e a priori. Ed Edgar Allan Poe dice che c'è qualcosa irriducibile al sapere medico, scientifico e positivista imperante, a suo dire è la perversità umana che non trova alcuna plausibile spiegazione. E a proposito di follia, c'è il racconto di Edgar Allan Poe, Il cuore rivelatore, in cui l'assassino protagonista e reo confesso e orgoglioso del delitto commesso, come sappiamo essere gli assassini di Poe, inizia la sua narrazione dicendo, vero, non sono pazzo, cioè non sono folle, voglio dirvi che non sono folle e ho commesso con consapevolezza un delitto efferato, uccidendo un povero vecchio. Perché? Perché quegli occhi languidi, quello sguardo posato sempre su di me mi infastidiva. E a prova della mia consapevolezza, della mia perversità, osservate con quanta meticolosità ho preparato questo delitto. Un delitto che tra l'altro non doveva essere scoperto, perché se ricordate la dinamica avviene attraverso una candela avvelenata, quale raffinatezza. Però l'assassino reo confesso, consapevole di averla fatta franca, a un certo momento riconosce che solo attraverso una confessione plateale può essere riconosciuto per quello che è, la incarnazione del demone della perversità, in cui vuole essere orgogliosamente riconosciuto. Quindi, pur potendo farla franca, confessa. Non voleva correre il rischio di essere ritenuto incapace di intendere volere. Assolutamente, perché in quel caso sarebbe morto come un uomo qualunque che ha commesso un delitto ma che non è stato mai scoperto. Ma egli, che si ritiene l'incarnazione tra le tante del demone della perversità, confessa e va orgoglioso al patibolo perché è la certificazione della sua, come dire, inspiegabile malvagità. E sono soddisfazioni anche queste che non vogliamo fare. Però, anche considerato però che i frenologi sono medici e che forse l'ascito, per esempio nel caso di Miraglia, l'ascito più duraturo è quello dell'organizzazione manicomiale. Qui siamo nel parco Basaglia e ovviamente conosciamo tutti noi il discorso legato a Basaglia. Ma i frenologi e soprattutto la scuola della Casa dei Matti di Aversa, prima con Ferrarese e poi con Biaggia, Giacchino e Miraglia, rompono la tradizione coercitiva nel manicomio avvicinandola a una dimensione più di comunità. Tutti i manicomi che forse magari vi è capitato di vedere, anche quelli che si possono visitare, come quelli di Volterra che sono costruiti a villaggio, eccetera, in realtà seguono in una certa misura i progetti già ottocenteschi prima di Ferrarese e poi di Miraglia sui manicomi. Ed è gran parte della fama buona, tra molte virgolette, perché poi passiamo a quella cattiva, di Miraglia, viene proprio da questo, dal fatto che Diumà, in viaggio a Napoli, visita il manicomio dove lui sta facendo fare sostanzialmente una teatralizzazione, un esercizio di teatralizzazione ai matti liberi nel cortile di questo, si innamora di questo esperimento, va a vedere lo spettacolo, trasmette questa cronaca in Francia e Miraglia diventa il medico dei pazzi, il medico... È molto bello questo, è l'altro lascito che hai fatto bene a sottolineare. E forse è più duraturo, perché poi appunto, con tanta storia che passa dietro e che sfocia nella psicanalisi e poi anche in una revisione anche normativa delle leggi sui manicomi, si arriva a Basaglia, però l'idea di poter curare in maniera differente i matti sostanzialmente è non solo di Miraglia che già la esprime negli anni Sessanta, Diumà a Napoli nel Sessanta, ma addirittura di Ferrari, che ci lavora negli anni venti dell'Ottocento. Insomma, loro fanno un po' da, scusa, da anello di congiunzione tra la pura contenzione dell'alienato e Basaglia, se vogliamo. E di Miraglia è anche la divisione tra manicomio criminale e manicomio tra molte virgolette civile, normale. Scusa. No, Francesca ha più volte fatto riferimento alla Real Casa dei Matti di Aversa, che è in Caserta, in provincia di Caserta. e nacque da un'idea di Miraglia che, chiudendo l'ospedale degli incurabili di Napoli, volle spostare tutti i folli del Regno ad Aversa. Ovviamente Miraglia aveva la sensibilità di Pinelle e de Skirol a Parigi che avevano liberato per primi i matti dalle catene e avevano ipotizzato la cura morale del folle, all'epoca così si definiva, con quella innovativa concezione di poter restituire per quanto possibile l'alienato a una società civile. E quindi quello a cui faceva riferimento Francesca meritoriamente, cioè quello che noi oggi chiamiamo teatroterapia, musicoterapia, ergoterapia, sono tutti concetti che ancora una volta rappresentano un lascito positivo di questa pseudoscienza. Quindi erano medici che certamente per l'epoca in cui hanno concepito le loro teorie risentivano della impossibilità di una pratica diagnostica degna di questo nome, oggi diremo, ma che per le intuizioni che hanno avuto e per i lasciti anche nella presa in carico del diverso che non deve essere segregato ma curato, tu prima hai usato curare, curare l'alienato il diverso. Per noi oggi è come dire un verbo del lessico corrente di fronte alla diversità, all'epoca non era così, il diverso doveva essere segregato. Questo ci spiega perché è importante studiare questi argomenti e questi sono gli aspetti. però scusami, veniamo al lato scuro, veniamo un po' al macabro, se no diciamo troppe cose belle, veniamo al macabro, adesso a parte gli scherzi, insomma ogni tanto, perché c'è questa storia di questa protagonista, Caput Mortum, adesso ti spieghi due parole cosa significa e poi questa guastamacchia, questo personaggio che credo nessuno, io almeno non avevo mai sentito e che invece ha una storia che diventa emblematica proprio, cosa è successo? Allora, innanzitutto Caput Mortum che è il titolo di questo libro che ho scritto su questi temi, beh Caput Mortum a Napoli c'è un'espressione che si dice a capi morte, vabbè perdonatemi questa diciamo variante partenopea, ma Caput Mortum in realtà non richiama il teschio, Caput Mortum è un termine preso in prestito da un lato dal processo alchemico, dall'altro dal lessico giuridico, nel processo alchemico il Caput Mortum è ciò che residua la scoria quasi insignificante e improduttiva alla fine di un processo, ebbene io ritengo che anche quello che noi riteniamo uno scarto, anche il folle, il diverso e il pazzo era considerato lo scarto della società, in realtà non sia mai fino in fondo tale e anche il Caput Mortum può raccontarci tante cose, può rigenerarsi a nuova vita e quindi il Caput Mortum su cui io rifletto è in realtà un teschio che può essere dai più considerati, considerato materia inerte, e invece tanti teschi hanno tanto da raccontarci, a volte storie particolarmente macabre, misteriose e suggestive. Perché tu sei stato un frequentatore del museo di Miraglia, dove Miraglia raccoglieva tutti questi teschi, di tombe scavate. Assolutamente, assolutamente. Allora appassionatevi ai teschi, io devo dire che da un paio di anni che con Francesca Canale-Cama sto iniziando a osservare, crani di persone viventi e teschi di trapassati, inizio a guardare ognuno di voi quasi quasi ricavando un'indagine diagnostica di carattere frenologico. Generalmente lo facciamo sui colleghi. Devo dire sì. Le mascherine non bastano. Devo dire che quando facciamo i nostri consigli di dipartimento, pur muovendoci da presupposti metafisici e aprioristici, sono giudizi di valore sui colleghi, poi troviamo quasi sempre conferma sulla conformazione cranica degli stessi. Sarà una coincidenza, ma è così. E se l'ombroso avesse ragione. Allora, è un po', diciamo, coinvolgente questa pseudoscienza. E devo dire che di crani si intendeva, come ha detto Francesca, Biagio Gioacchino Miraglia. Ne collezionava a più non posso e soprattutto di personaggi del bene e nel male geniali. Questi andavano alla ricerca o di crani di persone importanti, defunti, Napoleone, Bellini, i geni della musica, della lirica, che poi era lo star system dell'epoca, oppure grandi criminali che venivano condannati a morte e si, come dire, si contendeva il corpo e soprattutto il capo del trapassato. Per farvi un esempio, la terza storia necrografica che sto scrivendo, dopo quella su Jeremy Bentham e su Cartesio, è su Goia. Il cranio di Goia, oggi sepolto in Spagna, in realtà, cioè il corpo di Goia, oggi lo scheletro di Goia, quel che rimane oggi in Spagna, è senza cranio, ve lo dico. Perché? Perché l'hai portata a casa. Perché me l'hai portata a casa? Beh, ho questa mania, devo dirvelo. Però il pittore che era morto in esilio in Francia, è sepolto in Francia, a un certo momento gli spagnoli rivendicarono il corpo del grande maestro, andarono a disseppellire il corpo e non trovarono la testa. Quindi la testa di Goia è misteriosa. Poi comparve, dopo una ventina d'anni, in Spagna un ritratto del cranio di Goia, di un pittore che frequentava un noto frenologo, che all'epoca era Cubi Soler. E da qui nasce la leggenda nera del cranio di Goia. Però questo per farvi capire che, evidentemente, sto cranio non è che si è perso. Qualcuno, nottetempo, è andato nel cimitero dove il grande artista era sepolto, si è preso la briga di andare a violare la tomba e prendere questo cranio. E Biagio Gioacchino Miraglia anche era un collezionista in defesso di crani vari, tra questi quello di Giuditta Guastamacchia. Ad avercelo. Ad avercelo il crano di Giuditta Guastamacchia. Ora, chi era sta Giuditta Guastamacchia? Mi rivolgo alle donne presenti in sala. Era una ragazza, diciamo così, dai bollenti spiriti, perlomeno così descritta nel parere frenologico di Miraglia. In realtà, col senno di poi, era semplicemente una ragazza innamorata. È di un amore difficile da sostenere perché si era innamorato di un giovane prete. Nella Terlizzi, cittadina dell'Ottocento, particolarmente religiosa, questo fatto fece un enorme scandalo. Racconto in cinque minuti la storia di Giuditta. La volete sapere? Ebbè, il fatto è pruriginoso e questo, come dire, sono... E quindi, questa Giuditta, che aveva questo amore bellissimo e a suo modo, come dire, puro, sebbene impossibile, è corrisposto per questo giovane prete, fu alla fine convinta dal padre ad aggiustarsi a un matrimonio di convenienza con un anziano notaio. Però il notaio muore inopinatamente e Giuditta si ritrova ricca e ancora più innamorata del giovane prete. Il padre, per non sopportare le maldicenze del paese, spinge Giuditta ad andare a Napoli. Dopopoco il prete si fa trasferire, anche egli, a Napoli. Il vescovo di Napoli, informato delle circostanze alquanto, come dire, poco commendevoli, allontana la ragazza segregandola in un convento. Il prete innamorato, mai innamorarsi di un prete, rigolosissimo, è scogito a un piano, intelligentissimo. Richiama a Napoli, da Cerignola, in provincia di Foggia, un suo giovane nipote sedicenne. Per darlo esposa a Giuditta, perché aveva pensato bene di creare un matrimonio di copertura e di convenienza e continuare, diciamo, la storia d'amore con la ragazza. Il giovane da sedicenne, che arriva a Napoli, tal Leonardo Altamura, bello nella persona, dissipatore e abborrente il lavoro, in un primo momento si accontenta delle somme di denaro che il prete gli fa avere in cambio del silenzio compiacente. Però a un certo momento dice, ma sta bella mia moglie che io ho, perché, insomma, devo in qualche misura non reclamare quanto mi spetta. E quando si fa troppo insistente, diciamo, nei suoi reclami, Giuditta e il suo amato Stefano Daniello, sacerdote, decidono di liberarsi in maniera cruente di questo giovane sedicenne. Però il sacerdote dice, guardi, io ti amo, ma non ho il coraggio di uccidere. Giuditta dice, che problema c'è? Mi trovo un amante che abbia il coraggio che tu non hai. Il sacerdote dice, mi sembra una buona idea. Ora, noi stasera ragioniamo di follia. Io, andando a rileggere l'incarto processuale della storia, dico, ognuno di noi può trovare sulla strada un folle. Trovarne due è quasi impossibile, trovarne tre, quattro, cinque, come tra poco vi dirò, è un fatto davvero eccezionale. Infatti è da miraglia Giuditta definita donna senza esempio nei delitti di sangue a Napoli. Penso che sia così. E allora Giuditta si trova un nuovo amante, Tar Pietro De Sandoli, di professione chirurgo, quindi col sangue aveva una certa dimestichezza. Ma quando, dopo aver consumato con Giuditta l'atto d'amore, la mercè era devi uccidere, De Sandoli dice, ma io sono un chirurgo, posso dissezionare il cadavere, ma non ho il coraggio di uccidere. A questo punto interviene il padre di Giuditta che, salvato dal sacerdote e da alcuni debiti da gioco che aveva contratto, rientra, diciamo, nell'accordo criminale e dice, procuro io un sicario facendolo arrivare da Cerignola. Tal Michele Sorbo, giovine di 22 anni, sicario di professione. Alla fine questo giovane 22enne, sempre comprato dal sacerdote che evidentemente disponeva di laute e finanze, si presta a commettere l'efferato delitto. Siamo nel marzo dell'anno Domini 1800, all'inizio del secolo e nottetempo questo ignaro Leonardo Altabura, sedicenne, viene tratto in inganno dalla moglie e davanti al caminetto viene strangolato violentemente. Con partecipazione al delitto di Giuditta, del padre e di tutta la combricola, tranne il sacerdote, così si dice nelle carte processuali. Ora, commesso il delitto, ve la faccio in breve, interviene il chirurgo a dissezionare il cadavere, per cui si distribuiscono i compiti lungo le vie di Napoli per far sparire il cadavere a pezzi. Alcuni prendono le braccia, altri le gambe, chi il tronco, chi le interiora e la testa invece viene fatta bollire da Giuditta per sfigurarne, come dire, le fattezze. Deliziossi la sposa a vedere il volto sfigurato del giovane marito, così raccontano le cronache. Purtroppo però avevano fatto male i conti, siamo nell'anno Domini 1800, dopo la rivoluzione napoletana del 1799 i Borbone avevano un po' di spie disseminate per la città. Vedono questi qua imbrattati di sangue con dei fagotti in mano, vengono immediatamente fermati e come si dice a Napoli occorre uno schiaffo per farli parlare e molti schiaffi per calmarli. Questi confessano tutto immediatamente, il giorno dopo sono tutti nelle carceri della vicaria. Poiché era sotto la Pasqua, il processo viene celebrato a distanza di un mese, il 19 aprile dell'anno 1800 a largo della Pigna a Napoli, dove oggi c'è il Museo archeologico nazionale di Napoli, un tempo all'università, vengono tutti quanti impiccati con tre pene accessorie. Lo strascino, cioè l'esposizione al pubblico ludibrio per le vie di Napoli dei quattro rei, il sacerdote la fa franca, viene solo mandato in esilio a Marettimo. L'altra pena accessoria, la decollazione dei corpi, l'amputazione delle mani perché le teste e le mani venissero poi appiccate alle mura di Castel Capuano. E qui entra in gioco Miraglia. E qui come sai Francesca, entra in gioco Miraglia. Facciamo un salto temporale, siamo a Estoria e quindi questi voli ce li possiamo permettere. 1855, quindi 55 anni dopo i fatti, Miraglia che aveva in cura la figlia del prefetto di Napoli, nel momento in cui viene a sapere che si devono ristrutturare le mura di Castel Capuano, ha una richiesta da fare al prefetto. Mi dai tutte le teste dei grandi criminali appiccati? Guardate che sembra quasi impossibile, ma ancora nel 1855, sulle mura di un edificio del nostro paese, in particolare a Napoli, facevano ancora bella mostra di sé, in gabbie di ferro, le teste di grandi criminali. Per Miraglia era una manna perché riesce ad avere grandi criminali che nel tempo avevano avuto questo terribile trattamento. Ed entra quindi in possesso del cranio di Giuditta e dei suoi complici, grandi criminali. Per Miraglia, come dire, c'è un facile entusiasmo da applicare con zelo scientifico a queste teste, che vengono frenologicamente studiate con una corrispondenza con le carte processuali. Guarda caso. Guarda caso. Non si sa se legge prima le carte processuali e poi disegna il crane o viceversa. O viceversa. Infatti, leggendo le carte processuali della vicaria e guardando la conformazione cranica di queste teste, Miraglia riesce a stilare un perfetto parere frenologio in cui, con una serie di accenti alquanto misogini, questa povera Giuditta viene anche post mortem consegnata al pubblico, l'idibrio addirittura in questo caso di carattere scientifico. Ora, tutta la storia che io vi ho raccontato, voi dovete immaginarla davanti al cranio che è oggi conservato nel nostro museo di anatomia patologica dell'Università Van Vitelli, da cui abbiamo preso le mosse. Questo su che cosa ci deve far riflettere? Che un museo è una collezione di oggetti, per quanto prestigiosi, ma se non c'è, come dire, la capacità ermeneutica del soggetto che, visitando quegli ambienti, riesce a ricavarne una narrazione il più possibile affascinante, è, come dire, una sorta di cimitero di oggetti preziosi. E davanti a questo cranio molti di noi abbiamo, come dire, cercato di immaginare la storia terribile, sanguinosa, ma indubbiamente affascinante e commovente, di questa fanciulla che in fondo aveva commesso un grande peccato. Si era innamorato fino a perdere la testa. Effettivamente l'aveva verla. Veniamo al cranio. Questo cranio. Allora, questo cranio, come tu sai... Dobbiamo, perché dobbiamo... Dobbiamo chiudere. Allora, questo cranio sta lì. Ora, quando ho ricevuto l'invito di Estoria con Francesca, ci siamo ripromessi, per farvi un piccolo omaggio, di commettere qualcosa che normalmente non si deve fare. E allora ci siamo introdotti, come potete immaginare, nottetempo, perché andare a chiedere al Rettore di prestarci il cranio di Giuditta per farvelo vedere, è operazione pressoché impossibile, e noi abbiamo detto, ci prendiamo la licenza di prendercelo un po' in prestito e farlo vedere agli amici di Estoria. Però non lo dite troppo in giro, perché l'abbiamo fatto nottetempo la professoressa Canale. Soprattutto dite che è stato Cesaro. Diamo in corretà la professoressa Canale. Io posso accedere? Allora, con cautela delle zone sensibili, dovesse rianimarsi. Mi sento un po' d'aria argento in questo momento. Ecco qui. La nostra Giuditta merita un applauso, soprattutto per l'amore. Allora, per Miraglia, diciamo, l'origine, la scaturigine del suo atto è in questa zona qui, che è la distruttività, che ha pronunciata. Secondo Miraglia, questa è la sua zona pronunciata. Allora, proprio per trattenervi così, secondo i frenologi, la parte animale e istintuale dell'uomo è collocata nella parte laterale e posteriore del cranio. Quindi, sempre rivolgendomi alle donne in sala, quando voi vedete un uomo che ha delle protuberanze, Allontanatevi. Ma tu ti sei pelato per l'occasione. Poi, sempre secondo i frenologi, la parte del sentimento, diciamo, affettivo è nella parte anteriore e superiore del cranio, invece le capacità intellettive sono normalmente da ricondursi alla parte anteriore e frontale dell'individuo. Non a caso lo stesso Platone era considerato, diciamo, per la sua ampia fronte. Quindi la fisiognomica, poi, ha delle radici antichissime che vengono di volta in volta rinnovate attraverso diverse narrazioni scientifiche opseudotali. Ecco, io credo che veramente la storia di Giuditta Guastamacchia rappresenti il significato più autentico di un caput mortum, che non è la fine di un percorso, ma a volte anche le cose ultime, in questo caso un osso, possono ancora, per chi ha la giusta sensibilità, avere molte cose da raccontare. E così come Miraglia si è appassionata delle ossa, noi abbiamo percorso in questo anno, con la nostra ricerca, tante macabre avventure osteologiche. Però, devo dire, ci stiamo un po' divertendo, un po' producendo risultati scientifici che, accompagnati da una giusta divulgazione, incontrano talvolta anche il favore di un pubblico interessato, curioso e in qualche misura accomunato con noi dal gusto del macabre. Grazie. Però diciamo che non è... Rivotala adesso al rettore. Per concludere, adesso avrete capito che il cranio di Goya l'ha preso l'uva. Per concludere, visto che abbiamo parlato di una pseudoscienza, pur con tutti i suoi meriti, anche noi siamo un po' pseudo, siamo un po' di millantatore. Spiega che cos'è questo cranio. Allora, in realtà, non abbiamo commesso questo furto. Però l'abbiamo rivenduto bene, no? È fedele come riproduzione, devo dire. Devo dire, allora, guardate, l'originale è questo qui e la riproduzione è questa qui. In realtà ci siamo talmente affascinati su questa storia, su questi reperti e così via, che abbiamo fatto una riproduzione fotografica molto precisa, anche con le misurazioni dei reperti, e abbiamo poi chiesto a dei bravi artigiani napoletani di riprodurre esattamente le fattezze di queste ossa e di questi crani lì conservati, perché ne potessimo di volta in volta fare colpi di teatro nelle nostre narrazioni in giro per l'Italia. Però a pensarci bene, ecco, quando si parla anche di valorizzazione delle collezioni museali, un'intelligente operazione di merchandising museale potrebbe essere riprodurre i reperti, accompagnati però da una giusta narrazione. E devo dire che potrebbe essere un bel regalo come pegno d'amore, soprattutto, ancora una volta lo dico alle signore, è anche una messa in guardia di un avvertimento, ti do impegno il cranio di Giuditta Guastamacchia. Come si dice a Napoli, vedi di non farmi pigliare collera. Ci manca solo che la fai come bomboniera a un matrimonio. Grazie.